buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech ci ha contattato la ditta plus hack e ci ha inviato questo accessorio per gli eco dot di quarta e quinta generazione no non è la solita basetta che vi dà la possibilità di portare in giro il vostro eco quella si molto comoda molto utile ho la possibilità di portare in giro fanno anche quella quindi quando vi metterò qui sotto il link in descrizione andate a vedere un po i loro prodotti perché fanno veramente tanti prodotti e non solo per gli eco dot anche per l'eco show però detto questo torniamo il prodotto si tratta di un prodotto con una peculiarità ben precisa questo prodotto farà sì che abbiate il comodino sempre più liberi da mille prese nel senso che non vi servirà più attaccare una presa magari per ricaricare il vostro cellulare il vostro smartwatch piuttosto che tanti altri accessori che noi di solito la sera quando andiamo a letto dobbiamo ricaricare ed invadiamo le prese magari facendo quelle belle piramidi di triple che colleghiamo all'alimentazione basta con tutto questo ora andiamo a vedere nel dettaglio che cos'è e che come funziona questo prodotto e la sorpresa che nasconde nella parte posteriore come vi dicevo prima nella confezione troverete semplicemente il prodotto e il cavetto che va collegato all'eco dot l'alimentazione per questo prodotto viene data dall'alimentazione stessa del vostro eco dot di quarto quinta generazione ripeto attenzione non compratelo per altri eco dot che cosa andiamo a fare prendiamo il nostro eco dot nella parte posteriore dove c'è la fessura per inserire l'alimentazione e inseriamo il cavetto installato nel nostro accessorio una volta fatto questo lo adagiamo notate già che l'estetica del prodotto secondo me ci guadagna e poi una volta alimentato vedrete che sarà anche spettacolare vedere la lucina blu attraverso questa fessura ma non perdiamoci in chiacchiere questa è pura estetica prendiamo e andiamo a collegare l'alimentazione nella sua fessura il primo foro a sinistra e aspettiamo che il nostro accessorio si accenda come vi dicevo prima a me fa impazzire sinceramente guardate ed ora vi svelo l'arcano nella parte posteriore giriamo il prodotto è presente usb a e usb c nel mio caso usb c andiamo a connetterla all usb c nella parte posteriore e il cellulare va in carica come potete vedere quindi provate a immaginare quanti prodotti possiamo andare a connettere abbiamo la possibilità appunto di mettere altri accessori e poterli alimentare in modo tale da salvaguardare lo spazio delle nostre prese di corrente dopo avervi fatto vedere la parte posteriore dove c'è l'alimentatore usb a usb c vi dico anche che nella parte sottostante è presente una superficie in silicone che fa sì che il nostro prodotto che una volta adagiato sia fermo nella posizione in cui lo mettete quindi è difficile che il prodotto scivoli cada e si rompa il prodotto in questione ha un prezzo di 26 euro 99 vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare questo accessorio mi raccomando andate a vedere anche tutti gli altri accessori che sono presenti per questo prodotto perché questa società fa veramente tanti accessori anche per gli eco show ed esiste anche la versione naturalmente come power bank passatemi il termine quindi avrete la possibilità di connettere il vostro eco dot o il vostro eco show e poterlo portare in giro per casa ma nel frattempo concentriamoci su questo vi ripeto cliccate sul link qui sotto in descrizione vi rimanda direttamente ad amazon e lì potrete effettuare l'acquisto la comodità del prodotto credetemi andate a vedere anche le recensioni è davvero alta perché disnellisce tantissimo e scarica tanto le prese di corrente che poverine a volte hanno delle piramidi immense quindi ragazzi detto questo vi aspetto su amazon per vedere gli acquisti che fate e fatemi sapere anche qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se lo avete acquistato e io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao